Pelé ha un'infezione e resta in ospedale. Pelé soffre di un'infezione respiratoria. Lo ha fatto sapere l'equipe medica che è in cura l'ex calciatore brasiliano. Rimarrà ricoverato per i prossimi giorni all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Oggi è stato emesso un nuovo bollettino medico. Pelé, migliorano le condizioni di salute nel bollettino si legge e quando segue, l'equipe medica ha diagnosticato un'infezione respiratoria. Che è stata trattata con antibiotici? La risposta è stata adeguata il paziente. Che rimane in una stanza comune, e stabile, con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute. L'ex giocatore continuerà a essere ricoverato nei prossimi giorni per continuare il trattamento. Orei è stato ricoverato in ospedale martedì scorso per una rivalutazione del trattamento chemioterapico del tumore alcolen. Che era stato individuato a settembre dell'anno scorso. Pelé, da quando si trova in ospedale. Ha già scritto numerosi messaggi sui social per rassicurare i suoi tanti tifosi. Gli ha ringraziati per gli auguri ricevuti e ha garantito che si tratta di visite mediche di routine. Gli ha ringraziati per gli auguri ricevuti e ha garantito che si tratta di visite